Ah raga, quiz, piate voi, marzo, trovami in quiz, nel mentre, siuuu Volo Boh, c'è questo, ah sì, ma c'è questo, guess the drink Eh, dalle emoji Quindi, che ne so, eh, c'è Sì, 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 mi ci potrei stare Ok Eh sì, 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 no, non è, non è, non è alcolico, raga, non è Ok, no Eh, questo è proprio la prima, il primo drink, amico Ma Va bene, dottor Pepper Bravi, non mi sarebbe mai venuto in mente, bravo Assolutamente mai Ma Eh, fanta, fanta, fanta Ah, quindi bisogna ragionarsela in inglese È in inglese, ebbè, ovviamente Che cos'è? È un mojito Ma che schifo è questo È un mojito Ah, c'è il marco tocco No, ragazzi, ragazzi, ma che cos'è il bitcoin? È il bitcoin È la, con la B, con la B Bio, birra La, birra, 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 birra La B, B, E, R B, R Sì L'orso Sì, è vero Via, 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 via Ma Allora, latte Nosa? Milkshake Spesso, è vero, è il latte shakerato Ma, 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 Manu Qua ti meriti l'applauso, Manu, eh Bravissimo Attenzione, deri al marzo Io ho già le ve lappa, amici Vabbè, sì, latte de goco Se io io ti sparò Acqua de goco, però Eh, perché lei ha Eccola Mamma mia Come si è starvato Eh, vabbè, starvazza Vabbè Oh, caffè Eh, no, eh, no Quanto godo Vai, deri Vai, deri Vai, deri Che te la prendi Deri al marzo Porco Dio È la One new È È È la lemonade, questa È una bomba È lemonade Per favore È la lemonade È una granata È granata È geniale Vabbè, ice Dai, porco di Dio Però Porco Dio Quanto bevo, bro Ma no, che cazzo è? Io la so È vero, la so anch'io Vabbè, monster energy Bravo, zazzone Ne bevo Bravo, zazzone Oddio, è la last question Oddio Vabbè, è lei, oh Eh, bro Eh, sì Questa, sì È vero È coca cola Eh, sì Però dovete sta' zitti Io non ci sarei arrivata No, ma come no Ma come no Ma è rossa lì Vabbè Pari punti con me Però con una di più Ho vinto io Eeeh Sinori Comunque non è il cibo È il fast food qua The new guest The fast food place By the magic Quello che dura 8,42 Sì, è il fast food joint Capito Quindi Bordini McDonald's Burger King Queste cose Questa è la tua prima domanda Marzone Vai Eccolo Cook in a box Non lo so Non lo so Non lo so Attenzione perché il maestro Jack in the box Vabbè, ragazza Intuivo Fast food è già un bel Donut King Che cazzo è Che io e tutto Però nel senso C'è stato Ma basta mettere Ragazzi Ma basta tradurre Ma che cos'è Waffle house Senso Waffle house E per caso Waffle house Porco dio Ma perché Mi è stato dovuto Beccare Jack the smoker Ragazzi Ma porco dio Troia cheeseburger Non lo so Wendys 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 Che cazzo è Wendys E' una roba americana Eccola là Ragazzi Però porco di dio Ma in realtà Questa è una cazzata Train sandwich Se train sandwich Ma questo è famoso Eh l'hai detto L'hai detto Per me vale Per me vale Per me vale Eeeh Panda UPS Beh te posso dire È facilissimo Boh Panda fast Non lo so Il problema è che Eh ma fatta Naffanculo Ma sta a me Eh vabbè Eh vabbè Beh questa è una cazzata McDonald's Ok McDonald's Sì sì Eh sì Donald's C'è una pade Eh c'era abbastanza Raca Grazie per i 20 mesi Pizza Hut Vabbè manca Cioè farla vedere Bro easy Pizza Hut Vabbè Molteoricamente Ragazzi Ci stanno Quelli Comprensibili Fado grazie per i 30 Eccola qui È la question 16 Ed è La più difficile Di tutte Vabbè Burger King La faccola Che sta Attenzione perché si gioca tutto qui Con zazzoni Ma cos'è star money È una maestra invece Oddio Oddio Starbust Oddio No è vero starbucks Troppe slot No ragazzi Lo stonks Dai ma cos'è Lo stonks Ah sì Up lower burger Non lo conosci Download upload burger Up down that burger In and out In and out si poteva fare Posso dire si poteva fare Va bene Va bene ma come Come è finita Eh ho zazzoni o te Io fuori dai giochi Non ho smesso di contare Zazzama nuxo Ah sì dai Ma che cazzo è Cappette è diventato So 40 eh Bmw Sì Puyota Mamma mia Mamma mia Eccola Ford Eccola Audi Dici sei sicuro Sì Beh abbastanza Ho sentito che hai risposto Tokyo Su questa cosa Olimpiadi Olimpiadi di Tokyo Mi sembra Tocca mia adesso Eh boh Te sparo Te sparo onda No frate No fiat 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 No E finisce qui Ah io direi Onda Ma c'è Perché è un H Ma c'hai ragione Bravo bravo Dai Ah Gianna di là tu dai Questo è Ford Bravo Dizio Perfetto È tornata A chi tocca? A Gianmarco Mamma mia Ercalle d'out Ferrari Ercalle d'out Ercalle d'out Ercalle d'out Ercalle d'out Ferrari Porco Dio Eeeh Non lo so ragazzi Bu Ercone Galla Ragazzi Guarda con Frenze Prego Dammeni una facile Eeeh Porsche No come Porsche Ma è Chrysler Ma che ne so Chrysler Ce l'hai scoglio Il Doge Ma raga Ma però Però frate La Doge Ma io non so Manco che esiste Doge Come macchine Regà Ma no L'Opel Di Dio Opel Corso Ma non Puttana maledetta Ma che no Aston Martin De novo No La Rolls Royce Da Bente Da Bente E questa Questa è la scoda È la scoda Non ne vedo una Da dieci anni Stil vinto Emiliano Stil vinto Emiliano Ho detto io Che Emiliano Come la legge No guarda che Guarda che però La legge E allora è pareggio È vero Quindi Zazza Una sbagliata Una e la legge Una Quindi è pareggio Zazza legge Quindi è pareggio Un'altra volta Sì